Milano, 22 gennaio 2017, la dirigenza nerazzurra continua a sondare il mercato in vista di gennaio, quando il tecnico Luciano Spalletti pretenderà un deciso e corposo allungamento della rosa che ora prevede rotazioni decisamente corte in tutti i reparti. Sicuramente l'Inter andrà a caccia di un difensore centrale, e di un attaccante, in questo secondo caso il nome, che può diventare utile ai nerazzurri è quello di Paco Alcacer del Barcellona. La punta spagnola da due partite non viene convocato dall'allenatore Valverde, la prima per una influenza alla seconda per scelta tecnica, continuando a trovare pochissimo spazio nonostante le defezioni offensive. Se continuerà così, Alcacer chiederà di essere ceduto a gennaio. L'attaccante l'ha passata stagione a Valencia, aveva disputato una stagione di tutto rispetto con 21 partite giocate in campionato e 6 gol. Per caratteristiche, ovvero giocatore capace di giocare punta centrale ma anche esterno, Alcacer rappresenterebbe una valida alternativa per il reparto offensivo di Spalletti al momento ancorato al tridente Icardi per Isic Andreeva, con ed era alternativa il giovane Caramon ancora in fase di ambientamento. L'altro nome è quello di Alex Teixeira, ora alla Jiang Sussuning, ma capace due anni fa di una stagione allo Shakhtar da 15 partite e 22 gol di campionato a cui si aggiungono sei partite e tre gol in Champions, segno che il brasiliano ha già alle spalle una discreta esperienza di calcio europeo.